mamma mia che brutte cose che brutte cose ma perché dobbiamo ridurre il gioco del calcio a una sorta di faida sul nulla perché per la seconda volta vi rinnovo questo appello no perché come non mi piacciono le stupidaggini su allegri altrettanto stupidaggini ritengo quelle su deserti ma perché dovete dire fesserie a ogni peso spinto ragazzi guardate che il calcio è un gioco molto più complicato di deserti contro allegri è molto più complicato il gioco del calcio e mi spiace rispondere a un amico il fatto che vince solo il calcio proprio è una scemenza è bugia sono stronzate al calcio vince il più bravo non il bel gioco il cattivo gioco lo scorso anno per l'ultima mezz'ora in finale di Champions League anche Guardiola ha fatto catenaccio contro l'Inter due anni fa anche il Real ha fatto catenaccio contro il Liverpool 1 e 3 anni fa il Chelsea con il Manchester City poi per carità ci sono squadre che vincono tanto spettacolo come il Barcellona di Guardiola come il Milan di Sacchi come l'Ajax di Michels l'Ajax di Van Gall eppure io ricordo una finale fra l'Ajax di Van Gall e il Milan di Capello una finale tra le più noiose che io ricordi una finale tra le più noiose dove fino al momento nel gol aveva giocato meglio il Milan nonostante fosse stato dominato in lungo e in largo dall'Ajax nei gironi non esiste una formula perfetta per il calcio sarebbe troppo facile sarebbe troppo facile finiamola di scrivere stronzate se De Zerbi è lì al Brighton è perché ha fatto bene sì l'ha presa da Potter ma in Europa ce l'ha portato lui il Brighton è vero ha approfittato delle crisi di Chelsea Manchester United Tottenham e tutto il resto ma vogliamo dare il merito a questo ragazzo no ragazzi no perché voi cascate nel traniello nel quale cascavo io all'inizio no non è che perché giustamente come scrive qualcuno qualche opinionista gli ha fatti i pompini per andare contro un altro allenatore usando De Zerbi per andare contro un altro allenatore o altri allenatori non è che perché è stupido uno dobbiamo essere stupidi tutti no no io non festeggio la sconfitta di De Zerbi assolutamente no perché non merita questo trattamento da parte dei media da parte dei social non merita questo trattamento De Zerbi assolutamente no non è De Zerbi che si è programmato Dio è qualcuno che gli lecca i piedi usandolo prodomo sua per portare avanti la sua teoria non è così non è De Zerbi che ha chiesto da Dani di fargli i pompini poi è chiaro che i complimenti piacciono a tutti interessati o meno i complimenti piacciono è chiaro ed evidente ma non è De Zerbi che li ha richiesti voi come al solito spostate l'obiettivo in un senso e nell'altro voi come al solito spostate l'obiettivo perché perché il calcio oramai è diventato una sorta di grande fratello siamo lì a spunciare le conferenze stampa cosa ha detto ma perché ha detto questo ma perché ha detto quest'altro come se uno in conferenza stampa ti dicesse tutta la verità ma sono tutte scemenze tutte scemenze nessuna conferenza stampa vi dirà mai la verità salvo rarissimi casi nessuna conferenza stampa vi diranno mai la verità e voi lì con lanternino a fare conferenze sul nulla a fare video sul nulla fare polemiche sul nulla no non mi piace neanche questa crociata contro De Zerbi nel senso contrario non mi piace non mi piace non ho spiegato ieri il problema quale non è De Zerbi che ha chiesto di essere celebrato sono i media bastardi che da quando il suo sassuolo pareggia in casa della Juve di Sarri a Dio è diventato Dio De Zerbi è diventato perché non c'è equilibrio invece De Zerbi stava già facendo bene a Benevento non è De Zerbi il problema è chi gli lecca le palle non è De Zerbi il problema poverino anche ma tu guarda un po' veramente siamo guardate una mia teoria io avendo e trattando anche la politica masticando un po' di politica io ho una mia idea che il proliferare il proliferare il talk show fa male fa male all'opinione pubblica perché non diventa più un dibattito un approfondimento diventa una guerra diventa una guerra come non sopporto i talk show dove quando parla un politico un giornalista di destra o di sinistra c'è il pubblico che batte le mani oh cazzo siamo allo stadio siamo qua decidono le leggi il nostro futuro e qua battiamo le mani cosa sono gli ultras la curva nord e la curva sud così sta diventando il calcio gente che non ha mai visto un pallone in vita sua pontificare e addetti ai lavori o ex giocatori completamente interessati a una loro tesi c'è questo è il livello le parolacce controvieri di quei tre là c'è qua stiamo scadendo un livello di ignora io capisco che ci fate visual per chi è su youtube capisco che ci fate visual ma francamente sono non fate altro che rendervi ridicoli voi stessi sono teorie asfittiche che non portano a nulla non aggiungono nulla al dibattito alla crescita della cultura sportiva non aggiungono nulla né gli allegri auto né quelli che ridono su deserti oggi ma cazzarola il calcio perché è bello perché non c'è spazio per i luoghi comuni non c'è spazio per i luoghi comuni adesso dicono addirittura di Sarri che non si è aggiornato ma porca puttana dopo la Champions League ha fatto che cazzo di squadra Sarri ha fatto un miracolo in Champions League Sarri con quella squadra lì che cazzo di squadra Sarri ma stiamo scherzando no io veramente sto gioco delle fazioni non mi avrete mai non mi avrete mai iscrivetevi al canale